Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua perchè faremo la reazione al nuovo aggiornamento della 0.44, quindi iniziamo Ok ragazzi, iniziamo subito, ma come vedete possiamo personalizzare le mappe, che figata Io posso mettere uno, ci sono tutte le mappe, se metto ovviamente 2 player ci sarà block dash, ora si potrà fare block dash infinito Ok ragazzi, andiamo subito a provarle, mettiamo la nuova mappa delle hot wheels Wow ragazzi, è fighissimo, allora, in basso c'è scritto che le partite personalizzate non assegnano ricompense, quindi se vincete non vi danno la corona Però, è veramente figo, quindi iniziamo Ok ragazzi, siamo subito arrivati, allora, la nuova mappa è fighissima, non ci credo Allora, doppio salto, doppio salto e scivolata Io ragazzi, i trick li so praticamente già tutti Quindi nella prossima partita, facciamo un altro round, vi spiego proprio tutti, ma tutti i trick Intanto, come state vedendo, sono un campione È la prima volta che la faccio, perché... Avivo la beta, potevo provarla, ma ho detto, meglio non fare nulla, perché non volevo Intanto, oltrepassiamo tutti, siamo veramente dei pro player Mi sa che stiamo facendo anche world record, da quanto siamo veloci Stiamo prendendo veramente tutti i boost Questo, che fortuna Prendiamo questo, ora non devo prendere la cosa del coccodrillo Quindi questo, benissimo Per me è il record mondiale Ok ragazzi, eccoci qua e vi dirò tutti i trick Allora, si inizia subito qua, doppio salto, proprio al limite E andate, poi da qui fate così Andate qua di scivolata Andate sopra questo martello, cosa che non riesco E andate qua, ora, se facevate come me, che prendevo bene il timing Ma l'ho preso male Da qui fate così, che è un trick facile E poi subito è scivolata, io ora l'ho fatta male Poi da qui si prende questo boost Poi si fa la curva, così, benissimo Si sta più a destra possibile Poi qua cerchiamo di non farci prendere Mi si è girata la macchina al contrario Ma che cosa? Raga, se ho la macchina girata al contrario Quanto è bello il drago Quindi se salto, ma figo Poi andate qui E cerchiamo di prendere il boost lo stesso Guardate che figata assurda Ci entriamo il buco ma all'indietro è difficile E ci andiamo a qualificare La cosa veramente bella è che potete fare anche tornei Quindi voi potete dire Mettiamo queste tre mappe Facciamo accetta E facciamo tipo di tornei Sarebbe una cosa veramente figa Ma intanto mettiamo block dash Per vedere come sarà in 32 Ok ragazzi eccoci subito E dobbiamo vedere se una cosa Se ci fa fare block dash 32, 31 Ma veramente? Che figata Che figata ragazzi 32 su 31 Sarà una cosa fighissima Soprattutto con gli amici Fate certe robe incredibili Anche se so bot Non ha molto senso Massimo farlo con gli amici O in live Ha già un po' più senso E infatti forse farò qualche live Ma Per la roba che mi hanno bannato Non posso Ma Tranquilli che sto per creare Un nuovo canale youtube Usirà Tra un po' Molto Però vabbè Intanto Visto che so bot Block dash Vi potete allenare con le recovery Tentiamo una recovery Vai facciamo una recovery Una di quelle belle Beh Ora ragazzi Voglio provare A fare il record mondiale Di super slide Perché queste qua vanno Allora Si inizia subito Spawn Molto brutto Ma non fa niente Da qui andiamo qua Ovviamente Noi emoticon Le stavo già aprendo Andiamo qui Facciamo un po' di zig zag Così un po' caso Però Andiamo qui Prendiamo questo boost Mi lagga Quindi gg E quindi ragazzi Non è il record mondiale Però Una cosa che Si può fare Quindi E fare i record mondiali Sarà una cavolata Ora Tipo Con allenamento In ste mappe Io so fare anche trick Però l'ho imparato Senza allenamento Quindi Ci può stare Ancora il lag E quanto l'hago E quanto l'hago Mo' sistemo internet Poi tutto questo E fin Vada ci può stare Poi ho notato Che quando si vince Ti danno tipo Stacco rodo strano Ma non ti danno nulla Invece Vabbè ragazzi Il video finisce qua Da come abbiamo visto Ci sono le partite personalizzate Veramente raffigata Quando ci sarà Mio fratello Farò così Metterò due player Con mio fratello Block cash Qua è per Un crescita infinito Quindi Spero che questo video Vi sia piaciuto E vi saluto Ciao